Uedì, Soraya smentisce il presunto tradimento d'anni di Salatino con una risata. Cosa succede tra Luca Salatino e Soraya Ceruti? Stando ad alcuni pettegolezzi di gossip. La coppia nata a uomini e donne sarebbe giunta al capolinea. Dopo giorni di silenzi. L'ex corteggiatrice ha postato una stories, su Instagram, in cui si mostra sorridente e spensierata. Non è escluso che si tratti di una frecciatina chila accusata di aver tradito il fidanzato smentendo il tutto. Secondo Dejanira Marzano la coppia formata da Luca Salatino e Soraya sarebbe in crisi, sabato 15 aprile ha ricevuto tre segnalazioni sull'ex corteggiatrice di uomini e donne. Nella prima, si mormora un avvistamento di Soraya a Napoli in auto con un ragazzo. Nella seconda invece, è stata approfondita l'identità del ragazzo in compagnia della giovane e si tratterebbe di un famoso imprenditore di Como. Infine nel terzo messaggio, si legge che Soraya e Luca Salatino da tempo si sarebbero lasciati, lei lo ha confermato a un'amica in comune che a un altro. Fino ad oggi, la coppia non aveva commentato i pettegolezzi sul loro conto. Lunedì 17 aprile, tra le storie di Soraya ne è apparsa una che potrebbe essere una smentita sui tradimenti e i danni di Luca Salatino. L'ex corteggiatrice di uomini e donne si è mostrata sorridente con un abito nero molto elegante e ha scritto, io così. Non è escluso che la sua potrebbe essere una risata a tutte le insinuzioni che sta leggendo nell'ultimo periodo sul suo conto. Per quanto rigurda l'ex tronista invece, non è arrivato alcun commento in merito. Nel frattempo, alcuni utenti hanno commentato la presunta crisi fra Luca Salatino e Soraya. Secondo alcuni utenti, le voci che circolano sulla coppia potrebbero essere legate ad una strategia, i due ex volti di uomini e donne starebbero mettendo in scena una crisi. In modo da poter partecipare alla prossima edizione di Temptation Island, per questo motivo avrebbero anche deciso di trascorrere la Pasqua separatamente, lei a Napoli con alcune amiche. Mentre lui è a Roma con l'ex geffina Carolina Marconi e il suo compagno. Al grande fratello Vip7, Salatino ha parlato spesso della sua fidanzata. Lo chef romano a causa della mancanza di Soraya. Luca ha deciso di non non proseguire l'esperienza nella casa più spiata d'Italia. Per questo motivo sui social, alcuni utenti hanno anche ironizzato sul presunto tradimento dell'ex corteggiatrice, Salatino più volte preso di mira Giaele De Dona e Oriana Marzoli per il modo di vivere le loro relazioni all'esterno del programma. Quando poi la fidanzata avrebbe dimostrato di essere come loro. flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fie egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graffer-ul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul maxi, gespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, shwap-o, grasul nimeni altul, delvede, sau carbo. Tre' să-i... Tre' să-i...